Armato di bastone si presenta a casa dell'ex fidanzata e l'aggredisce, successo nel passato fine settimana sulle alture del Verbano, a Caprezzo, protagonista un 29enne. Tutto è successo nella tarda serata di domenica, quando l'uomo decide di recarsi a casa della ragazza. Giunto a casa della giovane, alla porta si presenta la madre, che in men che non si dica viene spintonata. Il 29enne viene invitato ad allontanarsi, ma Armato di bastone colpisce ripetutamente la porta d'ingresso della casa. Il contempo urla minacce di morte all'indirizzo della ragazza, spaventata e barricata in casa. È a quel punto che le donne decidono di richiedere l'intervento dei carabinieri. I militari, una volta giunti nel piccolo centro, non faticano a rintracciare e arrestare il 29enne. Per lui l'accusa è di lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale, al momento è detenuto presso il carcere di Verbani.